Sì, ma io non sono così sofisticato con tutti i layout da... perché a me me frega un cazzo, sincero. Eh, appunto, eh, di qua, Peppe Scorpio in dire se ci deve stare. Allora, dove sta stimando? C'è YouTube? Sì, sì. Ma aspetta, ma non posso. Mi ricorda neanche... cioè, non ti immagino, non so neanche il nome del mio canale. Cioè, l'ho configurato da sei decoli fa, non so neanche. Allora, dove sta stimando? C'è YouTube? Eh, io ho scritto no flame, però non... Oh, non start up. Ho scritto no flame su YouTube, però non... Certo, ci sto... just for fun. Non so neanche se ti vede bene, voi. Cazzo che... Chi è che spamma? Ah, sì, quel... Momi è venuto. Allora, vai. Allora, non ti ripeto, non fermare, non fermare. Ehm... Aspetta, però l'ho chiudo da, da da... da qua. Sì, l'ho chiudo da qua. Nezzo da qua. Diciamo così. Ho detto dal telefono, se... Ambe scusa, ma hai startato la live? Sì, vabbè, ma è solo per controllare se si vede giusto, se Crusha qualcosa, se faccio in schermate nele, a me... Non mi interessa della shot, io non guardo shot Ok, let's go Non c'è mai quattro, manco subito Se strema un scino è sempre morti Parla di un altro, io Vabbè che un po' si è seccato io Oh mio Dio Uh Cosa spam? M***** quanto mi ha detto Come Michael la uccì? Cosa c'è? Avevo voglia di cambiare un prof Morto uno Vabbè perchè sono fatti di fermi Perchè fermo scopo Ah è stata smutata forse Buona, ho due sono morti in B Bomba scala Hittato, Hittato Scala Uno ancora in A È l'ultima, se no dai Sali mid, sali mid Era mid da prima Però io l'ho hittato, se ti dico che l'ho hittato Mission success Sì ma hanno messo a coprire i mason È blocking All right, let's move out Ma hai consigato ad abusare, che ti dove dici? C'è solo scopo No Buona E' ovvio che abusiamo C'è solo C'è solo una cosa dietro alla finestra E' tirato Oh Bli sta plantando Oh Bli sta plantando Oh Bli sta plantando Oh Bli sta plantando Uno CT Uno CT Uno CT Un altro CT Un altro CT No Che bello è il mio gameplay Fermo in mid Tutto il game Mission success Fammi vedere che si vede giusto Mi sa che forse hanno cambiato a Mono Non lo so penso Occhio la nade E' tutto si Alla fine Un'altra bomba Un'altra bomba L'agilità di Kramer Oh ma posso entrare dentro No Bif Arrivo Bando Bando Chi è che ha detto l'agilità di Kramer Rain Sì Ma dove? Elmo Mi pistola Ma non posso mai shuttare con lui Ma che pizzo Ok, let's go Non posso mai shuttare con lui Si fa scherzo Ah ma l'hammer è crashato Un'altra bomba Oh ma l'hammer è evita He non shuttato Niente Non shuttarlo Non shuttar niente E' a destra Si Si Ahn Si Io da destra, alla porta Buono beat'ato Da sotto Perché mi arrivano il hit? Non puoi spammarla anziché puntagli alla destra, ce l'hai mai tutto scoperto Eeeh Abitudine Prendimi questi consigli di Noflame Eh dai, è il top player, guarda Sorry, sorry Ho uscito Mi entrai a mezzo Sono a mezzo Cioè? Eeeh, mi senti proprio due Upa qua E' cazzo E che cazzo E' un bel è entrato Mi sono andato sulla scala Vabbè, nice Vabbè, quindi izzy Ci vado a B entro Me ne faccio più uno Chiaghetta Ah sì Vabbè, se lo farai Sì E' qua Cazzo Nooo C'è pronto Uno, uno, uno Sto, c'è più No, 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 pronto, 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 pronto No, dettato, dettato Dettato, puoi anche farlo Meno male Non ti è andata proprio a culo No, lo sai per chi è andata a culo Per chi è andata a culo? Per chi è assaltato da questi dietri Gli ha pesato del gano Ho chiamato a culo, lo sai Ok, adesso Cazzo Vabbè, l'aveva esaltato Il gistiprima Di camera Però, la gente dice planta planta Quando prima in quattro nessuno che planta Vabbè, vabbè 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 Quello del setto è un pantano Ci sta assaggire Vabbè 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 Studio Commander Ambul Live 背 eeeh 10.000 gettoni che c'è shoppato per un giorno? per due giorni? su tutto? beh ma se poi vinci se poi vai master di shoppano loro dopo per tutta la season si vabbè si che ogni win ti da mi cash però nel senso no no proprio per tutta la season poi di shoppano loro no vabbè ma non è quello che intendo, cioè proprio lui intende, cioè dove giocare in arena capito? comunque hanno tolto i flusidi e un'altra mappa per... ok, let's go what? perchè non ho arrivato a blason? eh non lo so, fib2b è un'altra mappa, hanno messo un'altra mappa, si chiama province c'è pieno ma ci siete morti? ma chi è? ma block dove è? vabbè, un 3-1 1-b come è b? 3-b, 2-b 3-b 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 oh è morto ora neanche headshot qua, mai vado jesu chris uno sotto l'altro, uno sotto l'altro ah ti chiamo che cazzo che cazzo vuoi vabbè che cazzo che cazzo vabbè che cazzo vuoi prendere la testa quando scendeva, invece vi ha scendato prima vabbè vabbè ci sta Ok, let´s go Eeeeh dai broga io, porfittio Mina uno Due A Eeeeh Non ho neanche la bomba per soffare Mi aiuti che m'acqua che c'è chi e non punta resi Arco, il cieco Morto? Minchia Vabbè che era Il tuo, il tuo Rainer Si, c'ha la maschera Si, c'ha la maschera Vabbè? What? Arco Ma l'avevo visto ancora su che saltellava Commission fail Ok, let´s go Ok 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 Ho due HP, non potevo mai facciare Perfetto, mi dracca l'armato qua Eh, non ce l'ho aggittato Dai Ci troviamo a casa di Ricky E sbatti 1B 2 Arco ero, 2 Arco, 2 Arco Ma io non lo so Un'entrata, l'hai visto? B1 Sto affrontando in A B-frame Come cazzo l'omissione 2-3 Un GQ Non c'ho quanto Non c'ho più 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 Uuuu Nice Va la vita Va la vita Eh, va la vita Guarda si è protetto al culo da noi Anche Mission fail Ci sta, ci sto Ok, let's go Ma devo finirci Vuol dire che ho proprio mitra Con l'auto No Bene Niente Um Dietro Ok, ok Io ti guardo l'entrata Non c'è Lui Un B C'è uno sotto arco, sotto qua No, ma più E uno dentro, dentro, dentro Prendi la rana Ma va Dove è nada, dove è nada Levate bot Mission fail Ci sta, ci sta, davvero chiaro E poi è scoppiata come a POK La brava Cuore Forito Milano Mi serve a un cazzo Prodono Ero in giusto dal Tracca Bracca In basso, uno stai in basso Parilla, 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 parilla Ci so Porfita Eh bro, metti il cecchino Se Gaiotech non ha il cecchino, non manco Rung Vabbè, che vuol dire? Mettiamo una mappa più aperta, dai It's bad Metti una mappa più aperta in cui è limitato, che cazzo ti crei Beh, metti l'uxilio Vabbè, no, cazzo Eh Ah sì, l'uxilio di G5 punko Il tempo che lui mira Eh, ma fidati Lui passa dal lungo, ad una certa Incazzate Gaiote Savio Aspetta che I cani in quattro mi miravano mid Basta scrivere, basta Scrivere Sì 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 Quattro nevi Cosa? Uno viene da scattarti che... Sì 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 E' un'altra cosa Come il muo Come il muo Ma è un'altra cosa E' un'altra cosa Bambi ha been planted Beh, il muo Oh, l'altro ha mirato il corpo Il mondo C'è la cosa Vedi che cosa ha scurato il mio che cazzo è attacco di giurante non c'è nulla ho finito lungo B è pulito, casetta pure adevo è uscito adesso da lungo è sotto no no pusha prima che prende B sotto sta sotto devi pusharlo subito stai premierato stai e diglielo però pusha pusha ok vabbè copri io B sono troppo indietro vabbè è sempre uno di auto ultimo premio aspetta vuoto prenderlo prenderlo ciao bravolo sta fuori sta fuori sta fuori bella che fuori che fuori che fuori che fuori sta lungo qua non io c'ho il cicco vabbè non muero una caffita non c'è che fuori non c'è che fuori che fuori non c'è che fuori non c'è non c'era non c'è non c'è ma ma questo io ciò Mamma mia porca di Dio Ho visto la mira alla destra Evo però non ho capito perchè Ma non lo so Non lo so Nuovo Tatti Oh Problema Che vi è andato in libico Ma non lo so Il PC sta diventando vecchio insomma Che non entra mai l'HS a questo Non stai in out Quatt'ora Due, nasano due Fermi, mi prendo davanti Eh, veloce, flame perchè no Due, planta, 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 planta Un po' a muo L'unico Ma era lungo di check poi In B, in B di check questo Non andate da con NAC così Non so No Fai tipo me Tra casetta o B plant Eh, Ryan era be- Bellu- Ah, ma non era il tuo Lungo, in B, non dia Mi shift magari Ma era morto Ma che c***o Oh Dai, dietro planta Oh wow Che planta Dai, Rainer Morto No Senza fosse una bomba Se gli soffca Rainer è morto Eh Sai che metti il nerino da vicino Eh Premuto per sbaglio Mission success Ok, let's go Bah, scherzo Adesso 0-4 Davvero Buongiorno Caffè Caffettino E' passi Ma lo voglio A questo, mamma mia C***o Un'altra, mamma mia Mi sa che sono due ponte Ah Uno è... Sai da... Ponte, ponte, ponte Ponte Lungo di... Eh, vabbè, lascia la donna piazza tu ha Eh... Morto per fisso Tiro la bomba su... Tiro la bomba su plant Uno a destra Ponte Ponte Due c***o Due c***o Uno a destra Lei ha un'altra Un'altra Due c***o Un'altra Un'altra Obva Ma hai Va, va, va Vinta Vinta Two Mio Che Dai vabbè Che c***o c'era Mission fail Ok, let's go Mi ha esplorato prima la bomba 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 Mi sembra che ho un po' esitato Sì 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 Uno sotto Sì 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 Inarga Che balli Ehi tattico Uno dattico Uno dattico Uno dattico Uno dattico Uno dattico Sotto 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 Contro il giocane Ma ecco Qua dietro la tena dietro la tena Buona 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 Di Uno lungo il B Otto lungo A ti vorrei dire tante cose ma non so da dove cominciamo oh i morti tuoi ah ok l'altro potrebbe lungo 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 a lungo faccio una fake eh ma avete vinto però perchè abbiamo mi sembra un po un po triste da dire io vorrei viziar un po' 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 andiamo posso piazzare volendo? ah dai piazza così oh ma ci sono arriva 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 non è un altro cosa dov'è? ed shot ripasso ripasso lo faccio piantare così si la vuol c'è chi no gioca normale ah non ripicca però da dove? forse ho visto sullo schermo dov'è? sta qua sta da qua davanti alla porta uno e l'altro non lo so ma ancora è coperto però guarda con la cc ah non muovi ho sbagliato tutto ho sbagliato tutto my bad my bad my bad mission fail ok let's go ti hai volto? allora volto io no no non hai pushato il mato bomba da lungo è primamente lungo ha pushato io qualcuno ha pushato in alto uno ha pushato in alto chi dobbì chi dobbì è la madò quell'altro ha pushato me la base nostra la base nostra da punti ci suona io ma c'è il gairo di chi c'è il gairo di chi ah no non c'è il gairo di chi sarà difficile un casetta un casetta casetta stop oh 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 un po' non male io sono inside però non ho capito che mi riesco di spogli oh oh jesu vabbè dai dai siamo comodo sulla casa dai fra madonna troi ah lui sta ah un po' il secondo me ti dice ecco una cappiccia facciamo fast enough facciamo quel mongolo di get winning mission fail mi scappa la parecchia tipo che non togli un cazzo ok let's go sparo in un po' scatto avvide not for fun i don't keep i don't keep uno ponte arrivo per un secondo si uno ponte uno ponte uno ponte uno ponte eh da dentro da dentro hai sparato di dual praticamente sul casetto anziché sparare mission fail di viceversa pass che riesce l'affredd che va e dove, che c'è te che cazzo fai ti che cazzo fai Qua sei le più lenti di lumache, mamma mia Io bonus, state con me e la siete tornati indietro in 200 Oh, oh Bello Uno è stradina e l'altro è splant di A Sì, buona Ah, dai, piazza io Puscelo, 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 non se lo aspetta Abbiamo la James Bond in team, ragazzi Eh, deve sculare l'incoglionito Oh, oh Oh, oh Oh, oh Ma quando mai moriva, cioè Mi ha messo pure il giudice Adesso dalla porta Da dietro Vabbè, stai da andare Perché non posso? Io tanto sapevo anche che stava a mid Sarà uno dentro tattica e l'altro è già in fondo a bigola Sarà una tattica adesso Sarà una tattica adesso E l'altro è su ACO Il check in Non si fida Ha fatto bene forse Vabbè, è scalata, ci sta Cazzo Come cazzo Ciao Per farlo Non potrebbe essere Un problema Adesso Non potrebbe essere Non potrebbe essere Non potrebbe essere Non potrebbe essere Sempre No è giusto beh eh vabbè no qualche migliaio in meno più o meno 2-3 mila in meno però cioè no tu dovevi avere di più non 1100 ma di più no avevo di mio io però nel senso ci hanno mandato 71 e mezzo è giusto eh no a me 68 mila poi secondo me è andato un po' a casaccia 48 mila a voi 48 perché quello va in base alle vittorie che avete fatto sto esplodendo vabbè faccio quello che gioca da fermo oh sono finita oh finita vabbè vabbè ma ci andiamo uno da uno da mid te hanno un di mid o no? questo è un po' un da mid o no? probabilmente te la trovi in palcatura anni sull'imbalcatura già uno la rampa la rampa dove scendiamo non ho struttato ma sono struttato mi fermo ragazzi dove dove? il qua a sinistra era lì sinistra oh testa era oh ci togliamo che sta facendo una fan sull'europeo dai togliamoci guarda che sei in live disegno ebbè ho detto di sbagliato oh uno qua struttato ah sì che è struttato non mi sa dove? a mid di A ecco freno bello che è la musica non c'è ok let's go tu 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 non è pazzo comunque secondo me non sa come funziona B corto su sta mappa no chi è male? non lo so di nuovo vediamo ah che va no headshot ah che schifo eh da dietro ma 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 però anzi che dire che schifo di mira figlio di puttana mi dici che è da dietro che mi pusha mission fail all right let's move out diciamo quando quando dicono lo dico quando te le merfi non lo fanno apposta eh lo so lo so no ma no per qualcosa perché voi ti dovete aggiungere mezzo serio allora poi sta a piangere vedi da una treata eeeh dentro Ramp, 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 push! Come ramp? T spawns, sì T, scusa! Poi posso plantar B! Oh! Piazza B, piazza B! Non lo so dove! Che cazzo stai in campo! Dov'è? Ah, la tua sinistra! Guarda, sp... Guarda di più! Guarda di più! Guarda di più! Sono da mid! Eccolo! Guarda di più, non c'è nessuno! Tutti davanti, no? Ho fatto l'ultimo round! Ok, let's go! Quanto prende il processore? Non è vero... Bologna! Tu sei di AuC, puoi mirare il Data? Io no! Ah, io non sapevo il dov'era! A destra, a destra Cosa? Cosa che shot up quel cazzo Ho uno lead qua a destra Flamer L'hai visto, l'hai visto Flamer Un altro, beh Se ce n'era un altro, mi ha dato il treno Ah ok Hai salito sulle scale Ah ma è bello, ma è bello Che shift player by l'hammer, mamma mia Perché stai in shift L'hai visto? Che l'europeo è tutta stile No, non si iscrac Ah Ah E niente Missile fail Ma non mi, ah ma laggo beh All right, let's move out Ma forse è la live, non so No, no, non è la live, mi sta postendo sulla scheda video Un po' E un po' sulla asma, no No, no, scendiamoci Siamo puliti avanti A maggio mi dice, puoi ricarenziare in questo case Che è buono e lo faccio tutto Mi rifaccio i pezzi della scheda video Ci metto su una bella 1050 1050 ti hai Vabbè 1086 Per quello che la uso Ci sono due, uno condotto e uno magazzino Vabbè, è arrivata dietro una Uno, uno condotto e uno magazzino Un magazzino Valo, mi sta Cramerigno Abbiamo un problema Il nostro european player Stai ad andare in via, Ale Sì, sì, piazzo io Blu ulti Blu ulti Blu ulti Stai questo grattando, dai Bomb ha stato finito Quella piazzata Passate Qua, qua, Rainer Qua, qua, di fronte a Rainer Bravo, Rainer Bravo, Rainer Bravo, Rainer Sei un professionista Non li fate tra ierda Ma prendi il cazzo di mafia Ma, dove è finito FTV, AFK Lui dobbio fa tra ierda a scottli Lui dobbio fa tra ierda a scottli Sì 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 Alla sinistra Troppo solo Ma c'è un evento speciale Ma c'è un evento speciale Oi Ma c'è, almeno Vabbè Startup Vatti io a fumare Così siete 4 contro 4 Eh, neanche questo 4v4 Vabbè 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 Sì Sì Lasciamo le persone come si deve Vabbè Ah, non c'è Sì Ok Let's go in fondo due una rampa una rampa vuol dire rampa e due dai US sta avanzando dove c'è il coso blu di rampa dove c'è il coso blu di rampa non c'è non c'è non è l'HP Michael dove v'è? non è l'HP planar uno sta condotto, uno sta condotto nostro rampa col cecco uno sempre rampa col cecco sempre rampa mi sta a guardare la televisione mi sta a guardare mission success ok ok let's go let's go ok avanti scelto a me non scelto headshot avanti mi 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 Forse Però davvero Bosa nostra non c'è No, era salito a base loro Ma che cazzo Uno rampa Col cecco Morto morto Due rampa Due rampa Pittato L'ultimo non so dov'è Rampo 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 sotto condotti suoi Rampo Ora ecco su blu Condotti ora Vabbè se in tre dai Ragaio Mission success Fun Ok, let's go Hey, wake up Green Super Un altro, un altro attivo Product è rotto, è rotto buona corto se non sbaglio ah, questo sbaglio corto di... e te l'ho anche sputtato beppe scoglione eccolo secondo easy for Reiner 5-1 mission success ok, let's go non non un è passato in fondo non 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 ah bene non è andato uno mid e' davanti 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 non peccare non peccare un HP più o meno là sotto però non so se lo vedi ohhh hai cato vabbè penso che il dopo ritorno forse vabbè vabbè se vi interessa volete rivedervi lo schifo qua o o o o